Ciao ragazzi, benvenuti nel mio video. Oggi vi farò una recensione del Tokyo Marui M4 Chico B Next Generation. Ok, iniziamo a parlare dell'estetica. Io in questo momento ho già fatto alcune modifiche, ho cambiato lo spegni-fiamma anteriore, che c'era quello classico del M4, fatto bene come il suo precedente, e ovviamente ci ha toccato Yankee Tree, visto che sono andato a fare il Border War, e questo fucile qua ha fatto il Border War. In più l'attacco ad anello della Magpul, qui davanti. Che dire, esteticamente, come il suo precedente che avevo prima, l'M4A1, è fatto molto, molto bene. Balla un po' il risco ad avanti, e poi per il resto è perfetto all'M4. Qualche imprecisione noto rispetto ai vecchi modelli, e qualcosa di qualità si è persa, purtroppo, in questi nuovi Next Generation. Però, cosa cambia? Cambia che hanno rinforzato questo punto, e cambia il materiale. Il materiale hanno usato un materiale migliore, un po' per fare tutto. Anche se più economico, comunque, è fatto molto meglio rispetto al precedente, che mi ricordo si era spaccato in metà. Allora, abbiamo ovviamente il calcio in polimero, impugnatura in polimero, caricatori tutti in metallo, per forze dedicate ad occhio marui, la presa davanti inclusa in polimero, tutto fatto interamente in metallo, qui, anteriormente, tutto il corpo in metallo, 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 metallo. È veramente fatto bene. L'unica cosa che ho dovuto modificare è questo punto qui, che in pratica era finto, e ho dovuto scavare all'interno per fargli entrare l'anello. Abbiamo un cassettino qui, e ci si può mettere dentro batterie o accessori. Ho fatto subito la modifica per la batteria, infatti sto usando l'Elipo Standard. Si chiude a clip, quindi facilissimo chiudere il tappo posteriore per la batteria, non come tanti altri, che bisogna starli a smontare in metà, oppure... Ora l'avevo messo dentro prima, visto che ci sono tanti fili... Non plà, chiuso. E che dire, allora, l'ho provato in campo, ha fatto tutto il border wall, pioveva, sabbia, terra, batteria dentro per tre giorni, ha funzionato benissimo, funziona benissimo, è veramente un fucile pazzesco, ovviamente senza colpi si blocca. Raffita. Stesso al latio di fuoco, non è cambiato anche con una batteria maggiore rispetto al suo originale. Perfetto, è veramente, veramente un gioiello. A distanze ravvicinate questo è un B-Story, spara perfettamente, è molto preciso e soprattutto dà grandissime soddisfazioni.